C'è chi aveva appena risfrutturato come me. Quanto vale la mia casa oggi? Qualcuno comincia a dire ce ne andiamo, non siamo più sicuri qua. Ma dove si va? A chi si vende? Chi compra? E a quanto vendi? È inutile fare questi discorsi. E poi scusatemi, quando arriva qualche funzionario della regione che viene a dirci, noi abbiamo fatto tutto, che non è vera una falsità. E si dice ma voi avete costruito le case in riva al fiume. È un morto problema. Guardate che da prendere lo sbadilate ti dice queste cose qua. Bravo! Che questo senso non venga più. La rabbia della gente è evidente e giustificata. Non è accettabile che in 16 mesi abbiamo subito due alluvioni. Vi faccio il mio caso. Due metri d'acqua nel cimenterato nel 2023, due metri d'acqua questa volta nel 2024. Sarà una denuncia forse in sede penale, sicuramente in sede civile. Perché le responsabilità a nostro avviso ci sono e pretendiamo che vengano accertate e che i responsabili ne rispondano.